Veloce, precisa, molteplice e visibile, la comunicazione senza pause e questo è il titolo dell'Assemblea UPA, l'associazione che riunisce i maggiori investitori pubblicitari italiani e che come di consueto fa il punto ogni anno sugli investimenti. Ma non solo, si parla anche di riforme necessarie per il Paese, di innovazione e di banda larga. Noi prevediamo la chiusura in pareggio degli investimenti pubblicitari rispetto all'anno precedente, e quindi in netto miglioramento rispetto al 2013. Questo per una serie di motivi, intanto perché conosciamo le nostre aziende, ma poi anche perché nel Paese individuiamo una serie di segnali positivi, lievemente positivi, ma che vanno tutti nella stessa direzione, che sono l'aumento della fiducia degli italiani, che è pari e superiore addirittura a quella del 2010, anno in cui gli investimenti sono cresciuti, un calo della riduzione dei consumi, i consumi stanno arrivati allo meno 0,7, migliorando di mese in mese, una spread stabile a livelli molto bassi, che aiuterà l'economia, una ripresa dell'attenzione alla finanza, e quindi investimenti che verranno da quel settore, qualche piccolo segnale positivo sull'automobile, che vediamo già riflesso negli investimenti da parte delle case automobilistiche, e direi che sostanzialmente questi sono i segnali.